Buongiorno a tutti, io sono Ettore Fioravanti e ho appena avuto il piacere di suonare con Luca Verenucci e suonerò un brano adesso di solo a batteria in presentazione del disco che ho registrato a dicembre scorso, disco che è questo, che si intitola Obus Magnum, è un disco inciso in quartetto con Marco Colonna ai clarinetti, Igor Regari al contrabbasso e Pasquale Mirla al Ferrafono, che è il quartetto che io mi onoro di presentare in questo momento in giro, il disco uscirà a settembre, peraltro poco dopo uscirà anche un altro disco registrato in quel periodo lì, con lo stesso gruppo con l'aggiunta di Gaetano Partipilla al sassofono e di Silvana Cuzz, voce recitante, dove abbiamo rifatto una cosa che ho già fatto alcuni anni o sono, cioè il Pierino e il Lupo, in versione ridotto e in versione ovviamente molto jazzistica, con delle poesie, con degli interventi scritti dai bambini, insomma una cosa molto carina, presa dal vivo al Festival di Noci in Puglia e quindi sono contento che ci sono queste due nuove uscite con due gruppi paralleli ma molto diversi fra loro. Ancora diversa è questa cosa che vi presento, è un brano per solo a batteria, senza titolo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie 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 a tutti.